Tra gli appuntamenti estivi più attesi per il calcio giovanile, il torneo di Corpus Domini, da 22 anni, rappresenta una kermesse importante ed attesa per la categoria giovanissimi. L'evento, organizzato in maniera minuziosa ed ormai consolidata dalla Scuola Calcio Acli, si concentra in 48 ore. Sabato mattina, presso la Sala Convegni dell'Hotel San Giorgio, a partire dalle 10, si svolgerà la presentazione della 22esima edizione del torneo internazionale di Corpus Domini Memorial Antonio Rauso Trofeo Antonello Toti. Nell'occasione verrà illustrato il programma delle gare che prenderanno il via alle 14.30 di sabato. Come sempre, tante le società che hanno confermato la loro presenza, altre tante quelle che hanno deciso di prendere parte per la prima volta al torneo. Oltre alle blasonate ed abitueppe, Scara, Bari e Lazio, le tre società di Serie A e B, da anni aderiscono all'evento, torna anche la Juve Stabia. Al debutto, l'Avellino e dalla Serie A greca, da Atene, il Pananios. A difendere i colori della nostra regione, la rappresentativa molise diretta da Oriente e naturalmente le Acli Campobasso di Peppe Delia. Nella giornata di sabato saranno coinvolti due campi, l'antistadio Acli ed il sintetico di Mirabello, che ospiteranno le fasi di qualificazione. Domenica, a partire dalle 15, il via alle finali. In contemporanea si giocheranno la finale settimo-ottavo posto a Mirabello, quinto-sesto a Ripalimosani, terzo-quarto sul campo Acli. A seguire di questa partita, intorno alle 16, sul sintetico Acli, la finalissima del torneo. La scuola calcio Acli del presidente Marco Meo e del direttore generale Michele Tommassino ha proseguito l'opera iniziata da Antonio Rauso ed Antonello Toti. In questi 22 anni il torneo di Corpus Domini è cresciuto, ma l'obiettivo dell'evento non è mai cambiato. Due giorni intensi che daranno la possibilità agli spettatori di vedere all'opera probabilmente le promesse del calcio italiano, ma sarà anche l'occasione per i giovani molisani di mettersi in mostra e, perché no, essere notati. Nella vita di un calciatore le porte per una carriera da professionista si aprono da piccoli ed anche all'improvviso.